Ciao a tutti amici e amiche, oggi vi voglio parlare in questo brevissimo video di come le persone durante gli anni, durante la loro vita guardano ma non osservano, non vedono. Che intendo con questa affermazione? Che tante persone praticamente non si fermano a guardare le grandi cose ma non vedono, non osservano quelle che sono le piccole cose, i dettagli che fanno sicuramente la differenza in qualsiasi ambito della propria vita. Tornando a quello che facciamo noi in Best in Investment, è quello che consiglio sempre ai nuovi utenti, alle persone che ci chiedono cosa fate, che risultati avete, come vi comportate, guardate i piccoli dettagli. In Best in Investment noi focalizziamo la maggior parte del tempo sulle piccole cose perché quello che si vede al di fuori, i risultati, gruppi con grossissimi numeri, lo possono fare praticamente con pochi soldi, ora si può veramente creare un'immagine che poi alla fine non è quella reale. In Best in Investment noi invece teniamo tutto quello che ruota attorno al cliente, quindi non fermatevi a chiederci i risultati, gli storici, quelli ci sono, nessuno vi vieta di entrare nei nostri canali e di verificare. Gli storici sono lì, ve li fate, ve li fate, ve li create voi, non chiedetevi, non chiedeteci degli Excel che tutti possono creare da un minuto ad un altro e porvi all'attenzione, alla fine anche dei risultati che non siano veritieri. Ma patate alle piccole cose, chiedete che tipo di assistenza c'è una volta che entrate nei canali. Io e Daniele siamo molto molto disponibili con tutti e chi guarda questo video vuol fare magari un commento da sotto relativamente a questa cosa può naturalmente darvi questa testimonianza. Quindi è tutto quello che c'è dietro ad un servizio che non si vede a cui bisogna fare bisogna fare riferimento. Chiaramente non ci siamo solo noi, c'è anche la vostra vita e il consiglio che vi do è davvero di guardare, osservare le piccole cose. Le piccole cose che possono rendere uniche le cose grandi che sono invece facilissime da vedere anche se non ci potete attenzione. Con questo vi auguro una grandissima giornata e vi invito a visitare i nostri link social che trovate nella descrizione di questo video, nei commenti su Facebook e quant'altro. Un abbraccio a tutti, buon weekend, buona giornata a tutti. Ciao!